Ciao a tutti e benvenuti al listone dei giochi in arrivo per il 2023. Anche quest'anno ci sono più di 30 giochi, ma sicuramente me ne è sfuggito qualcuno, quindi vi invito a segnalarmeli qua sotto nei commenti, così tra video e commenti abbiamo un quadro praticamente completo del 2023. Prima di iniziare però vi invito a sostenere il canale in qualsiasi modo vogliate. Potete farlo abbonandovi al canale tramite il pulsante apposito che si trova vicino al pulsante dell'iscrizione, usando i super grazie che invece trovate vicino al pulsante del like, oppure semplicemente mettendo like al video. Sono tutte cose che aiutano veramente un sacco, quindi grazie mille per il supporto. E adesso iniziamo col video. Starfield è un GDR open world ambientato nello spazio sviluppato da Bethesda. in arrivo nella prima metà del 2023 su PC, Xbox Series e Game Pass. Sarà sicuramente un gioco enorme, infatti ci saranno addirittura mille pianeti esplorabili, ma ci sono giustamente dei dubbi sulla qualità di questi pianeti. Ad ogni modo il gioco sarà incentrato sull'esplorazione dello spazio. Potremo usare e personalizzare la nostra navicella spaziale, guidarla e usarla addirittura per combattere. Una volta scesi poi potremo esplorare a piedi e ci saranno varie armi da poter utilizzare per combattere i nemici. È uno dei giochi che aspetto di più per il 2023, per il quale realizzerò vari video e molte guide, e lo giocheremo anche in live. Il remake di Dead Space arriva il 27 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series. Dead Space è un survival horror d'azione, con una forte componente narrativa e caratterizzato da atmosfere davvero intense. Si tratta di un gioco space horror ed è infatti ambientato all'interno di una nave spaziale. È uno dei titoli più terrificanti che io abbia mai giocato e anche lui è uno dei miei giochi più attesi per il 2023. Basato sull'omonimo film di Andrei Tarkovsky, Stalker è ambientato in un est Europa post nucleare. Si tratta di un FPS GDR, un po' alla Fallout per capirci, e sarà ambientato in un open board. Il primo gioco è diventato un cult, i primi tre in realtà, e ve li straconsiglio tutti e tre, anche se un po' datati magari tecnicamente, ma questo sembra essere proprio all'avanguardia anche da quel punto di vista. Purtroppo il team ucraino ha dovuto sospendere lo sviluppo del gioco a causa della guerra, e il gioco, inizialmente previsto per aprile 2022 e poi rinviato a dicembre 2022, uscirà con tutta probabilità nella prima metà del 2023 su PC, Xbox Series. E, manco a dirlo, è probabilmente il titolo che attendo di più per il 2023. Il remake di Resident Evil 4 è molto vicino. Uscirà infatti il 24 marzo su PC, PS5 e Xbox Series. Resident Evil 4, l'originale, era un gioco d'azione a tinte horror, piuttosto che un vero e proprio horror. Un gioco da level design eccezionale, divertentissimo e soddisfacente anche oggi. Il remake, a quanto visto, dovrebbe reinterpretare il gioco in una chiave più oscura e horror, cosa assolutamente gradita, almeno per me. Io non vedo davvero l'ora di metterci le mani su, e anche questo è uno dei titoli che attendo di più per il 2023. Evowed è un GDR in terza persona sviluppato da Obsidian, e vi parlo di Obsidian perché sono gli sviluppatori di quel capolavoro di Fallout New Vegas, ma anche di Pillars of Eternity, Tyranny e The Outer Worlds. Insomma, di GDR ne sanno qualcosina. E hanno già affermato che il gioco sarà un incrocio fra Skyrim e The Outer Worlds. Io mi aspetto uno stupendo GDR open world e spero di non venire deluso. Evowed non ha una data d'uscita specifica ancora, ma dovrebbe uscire nel 2023 su PC e Xbox Series. Black Myth Wukong è un Souls-like spettacolare. Dopo aver visto i video di gameplay ed averli analizzati per bene, posso dire che, al netto di eventuali downgrade, Wukong potrebbe essere uno dei giochi tecnicamente più avanzati mai visti. Graficamente è una bomba. Texture, modelli, effetti particellari e gestione della luce sono incredibili. Anche il combattimento sembra essere dinamico e soddisfacente. E, anche dal lato artistico, siamo di fronte ad un gioco chiaramente ispirato. È previsto per il 2023 su PC, PS5 e Xbox Series. E sono davvero tanto curioso di giocarlo. Lies of P è un altro Souls-like, questa volta ambientato in un universo pazzesco. Quello di Pinocchio di Collodi inserito in un contesto Belle Epoque Dark. Un po' come in Steel Rising, anche qua, protagonista e nemici sono automi. Ma, a differenza di Steel Rising, il combattimento sembra molto più fluido. Mi aspetto un gioco tecnicamente un po' grezzo, forse, ma artisticamente valido. Arriva nel 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X, S e Xbox One. Un'altra bella promessa da parte di Obsidian, The Outer Worlds 2, seguito di The Outer Worlds. Un GDR open world ambientato in un'ucronia. Si tratta di una sorta di Fallout, sostanzialmente, ma ancora non è stata annunciata una data d'uscita precisa. Potrebbe arrivare a fine 2023 ed esce sicuramente su PC, Xbox Series X e Series S e sarà sul Game Pass al Day One. Baldur's Gate 3 è un GDR all'occidentale fantastico. Uscito in Early Access a ottobre 2020. Il gioco è previsto per il 2023 su PC e Stadia. Ho giocato una ventina di ore dell'Early Access e posso dirvi che se vi piacciono i GDR punta e clicca incentrati sulla strategia e un sistema di scelte e conseguenze molto complesso, questo gioco, raga, fa assolutamente per voi. Peccato che abbiamo aspettato così tanto per la release. Forspoken è un GDR d'azione open world che fa della fluidità e la dinamicità il suo punto forte. Potremmo usare una varietà di armi, ma tutte rigorosamente magiche. Gli effetti particellari sembrano spettacolari e anche lo spostamento all'interno del mondo di gioco mi convince parecchio. Nonostante i nemici sembrino i soliti corrotti, il gioco pare avere un certo carattere anche dal punto di vista artistico. Non sono convintissimissimo, ma il gioco sicuramente mi intriga. Esce il 24 gennaio su PS5 e PC. Il 10 febbraio arriva Hogwarts Legacy, uno dei titoli più discussi da quando è stato annunciato, senza dubbio. Si tratta di un GDR open world con varie meccaniche a disposizione dei giocatori e un gameplay incentrato sulla magia e sulla scuola di Hogwarts a 360 gradi. Il gioco è ambientato più di un secolo prima dell'arrivo di Harry Potter, dunque, fatta eccezione per alcune comparse, non aspettatevi tanti volti conosciuti. Il gioco esce su tutte le piattaforme il 10 febbraio 2023. Sons of the Forest, seguito dell'acclamato The Forest, è un survival horror con una forte componente survival. Siamo dei sopravvissuti ad un incidente in alta quota e dovremo sopravvivere in una foresta davvero poco ospitale. Oltre a raccogliere risorse, dovremo anche combattere creature poco ben disposte nei nostri confronti. Il gioco arriva il 23 febbraio, inizialmente solo per PC, ma con una release per console già confermata e costerà 29,90€. Abbiamo già il prezzo. Dead Island 2 è un gioco d'azione sopra le righe in cui dovremo eliminare orde di zombie nei modi più assurdi e splatter possibili. A me, personalmente, il gioco non interessa molto, ma è sicuramente un prodotto interessante che arriva il 3 febbraio per tutte le console tranne Switch. The Day Before è quell'MMO survival horror che mescola Days Gone e The Last of Us in un open world francamente incredibile dal punto di vista tecnico. Letteralmente incredibile. Il gioco doveva uscire a giugno 2022, ma è stato rinviato al 1 marzo 2023, sebbene ancora non ci siano stati ulteriori aggiornamenti al riguardo. Il gioco promette così bene da non sembrare vero. Arriva il primo marzo su console di nuova generazione e PC. Flintlock è un GDR d'azione open world che sembra promettere molto, molto bene. Il gioco ha un'atmosfera decisamente fantasy, tuttavia non potremmo usare solo magie e armi bianche, ma anche pistole e fucili. L'ambientazione e il design del mondo sembrano buoni, e il gioco arriva nella prima metà del 2023 per tutte le piattaforme tranne Switch. Abbiamo potuto provare la demo di Wolong Fallen Dynasty, un Souls-like davvero ottimo a mio parere, un prodotto che sembra tecnicamente eccellente e che mostra un'identità precisa. Seguito spirituale della saga Nioh, e sempre sviluppato dal team ninja, Wolong Fallen Dynasty è ambientato in oriente, ha un sistema di combattimento strutturato e una progressione che pare molto profonda. Uno dei giochi che attendo di più per il 2023 arriverà a inizio 2023 per tutte le piattaforme, tranne Nintendo Switch. Final Fantasy XVI è il JRPG che attendo di più in assoluto. Dopo un quindicesimo capitolo che ha fatto discutere, Square Enix deve decisamente indirizzare il tiro, e sembra che Final Fantasy XVI stia procedendo nella giusta direzione. Il tono di questo gioco è sicuramente più epico e apertamente fantasy rispetto a quanto visto nel quindicesimo capitolo, e il combat system action sembra soddisfacente e convincente. Final Fantasy XVI arriva nel terzo quadrimestre del 2023, ovvero tra luglio e settembre su PlayStation 5. Layers of Fears è il reboot della saga horror Layers of Fear, senza la S finale, sviluppata da Bloober Team. Visivamente e narrativamente il titolo promette molto bene, mentre a livello di gameplay siamo di fronte ad un titolo fortemente narrativo e investigativo, con pochissima azione, il che per me non è un'ottima cosa, ma ovviamente questi sono i miei personalissimi gusti, perciò ve lo segnalo ovviamente. Il gioco è previsto per il 2023 e uscirà su tutte le piattaforme, tranne Switch. Gli amanti dei GDR d'azione non potranno non attendere con ansia Diablo 4, quarto capitolo dell'acclamatissima e amatissima saga Blizzard. Il gioco sembra spettacolare dal punto di vista tecnico, ambientazioni ed effetti speciali raggiungono davvero l'apice di quanto visto finora, superando anche la bellezza di Diablo 2 Resurrected. Ci sono dubbi sullo shop però, anche se Blizzard ha assicurato, ma ci fidiamo, che sarà al 100% cosmetico, ripeto, ma ci fidiamo. Ad ogni modo, Diablo 4 arriva nel 2023 su tutte le piattaforme, tranne Nintendo Switch. Atomic Heart è un GDR d'azione che non sono riuscito a decifrare bene. All'inizio mi sembrava un gioco con ambientazione distopica come Fallout, e dunque abbastanza serioso nei toni, ma con il passare dei trailer, il mood del gioco sembra tendere sempre più verso una specie di Sirius Sam, un prodotto molto cacciarone e trash. Ad ogni modo, tono a parte, il mondo di Atomic Heart sembra ben costruito e dettagliato, e i combattimenti paiono soddisfacenti. Il gioco arriva a inizio 2023 su tutte le piattaforme, tranne la povera Nintendo Switch. Pragmata è una nuova IP sviluppata da Capcom, di cui non sappiamo quasi nulla, tranne che l'uscita è prevista per il 2023. Le immagini che abbiamo potuto vedere finora sono senz'altro intriganti, ma al momento non ci sono molte informazioni. Vi aggiornerò sicuramente appena possibile. Marvel's Spider-Man 2 è un gioco d'azione con protagonista Spider-Man, ma va là, che mantiene l'affascinante ambientazione urbana vista in Miles Morales. Abbiamo visto poco finora, ma sappiamo che il gioco arriverà nel 2023 esclusivamente su PS5. PS5, almeno a lancio. Il remake del primo capitolo di Alone in the Dark sarà ovviamente un gioco horror d'azione, ma, a detta degli sviluppatori, più che un remake, vuole essere proprio un reimagining completo di tutta la trilogia originale. Ci sarà il classico combattimento aperto con i nemici, dovremo risolvere puzzle ed esplorare tutti elementi presenti nella trilogia originale e che hanno fatto la storia del survival horror. Il gioco è previsto per il 2023 su PC e console di nuova generazione. The Lords of the Fallen è un reboot di Lord of the Fallen, un GDR d'azione a tinte souls-like, molto interessante per gli amanti del genere, nonostante il primo capitolo non fosse stato recepito con grande entusiasmo da parte della critica. Il trailer era molto spoglio, comunque, e non abbiamo visto granché, ma il titolo è previsto per il 2023, anche se non ci è ancora dato sapere per quali piattaforme. Vi aggiornerò. Nightingale è un survival ambientato in un mondo fatto di mondi collegati da vari portali. Si tratta di un gioco in prima persona in cui dovremo non solo raccogliere risorse, costruire edifici, ma ci troveremo a dover creare armi, sia corpo a corpo che da fuoco, per combattere le creature che abitano questi vari mondi. Sarà possibile giocare in co-op o in single player e, tramite un sistema di carte, non meglio specificato, potremo decidere come sarà il mondo successivo che andremo ad esplorare, dandogli delle caratteristiche precise. Il gioco arriva solo su PC nel 2023. Il seguito di Hollow Knight dovrebbe arrivare nel 2023 per tutte le piattaforme. Per chi non lo conoscesse, Hollow Knight Skill Song è un metroidvania in cui giocheremo nei panni di Hornet, la principessa protettrice del reame che dovrà raggiungere la vetta del suo regno maledetto per cercare di liberarlo. È uno dei giochi più attesi dagli amanti di Metroidvania e speriamo che il 2023 sia finalmente la finestra d'uscita definitiva. Hyper Light Breaker è descritto come un gioco d'azione e avventura in 3D con elementi GDR e roguelite da giocare in solo o in co-op, ambientato nell'universo di Hyper Light Drifter. Dalla descrizione non saprei davvero cosa aspettarmi, tranne un mondo colorato al neon e una versione 3D del primo gioco della saga, Hyper Light Drifter. Il gioco arriva nel 2023, per ora sembra solo su PC, ma ovviamente vi tengo aggiornati. Star Wars Jedi Survivor è il seguito di Jedi Fallen Order e sarà, come il suo predecessore, un gioco d'azione e avventura, ambientato però in un mondo più vario e profondo e con un combat system migliorato, più fluido e dinamico. Il gioco è previsto per il 2023 su PC e console di nuova generazione. Per gli amanti del picchiaduro non c'è altro gioco al momento per il 2023, fatta eccezione per Street Fighter 6. Sì, hanno annunciato anche Tekken 8, ma non si sa quando uscirà, quindi non è in lista. Visivamente Street Fighter 6 è sicuramente stiloso, riesce a mantenere quel look arcade con gli sfondi pieni di gente e di cose, ma con una veste grafica sbalorditiva e degli effetti particellari fuori scala. Il gioco arriva nel 2023 su tutte le piattaforme, tranne Switch. Precedentemente conosciuto come Project Eve e da me sempre e solo chiamato il gioco dei culi scintillanti, Stellar Blade è un hack and slash 3D con un colpo d'occhio spettacolare e una fluidità davvero impressionante. Il fulcro del gioco sarà sicuramente il gameplay e l'azione, ma dal trailer traspare anche una certa attenzione alla narrazione. Il gioco arriva nel 2023 in esclusiva temporale per PS5. Alan Wake 2 è un survival horror in arrivo nel 2023 su console di nuova generazione e PC. Il teaser era molto molto breve e non conteneva gameplay, quindi in realtà c'è poco da dire. Appena ci saranno novità, ovviamente vi aggiornerò nel canale YouTube dedicato ai giochi horror. Trovate il link per quel canale in descrizione. Assassin's Creed Mirage è un titolo d'azione con una forte componente narrativa che recupera gli elementi distintivi dei primi capitoli della saga, forse i più amati dal grande pubblico. Il gioco sarà ambientato in una città dell'Iraq e vestiremo i panni di Basim. Il gioco dovrebbe arrivare nel 2023 per tutte le piattaforme, tranne Switch. Avatar Frontiers of Pandora è un action-adventure basato sul celebre film di Cameron e ambientato in un open world. Il gioco è previsto per il 2023 su console di nuova generazione e PC. Non sappiamo molto di più per il momento, ma ovviamente vi tengo aggiornati. Il tanto agoniato gioco su Gollum ambientato nell'universo del Signore degli Anelli dovrebbe arrivare nel 2023 su tutte le piattaforme e si vede. Graficamente infatti il gioco mi sembra davvero incerto e a livello di gameplay siamo di fronte ad un'avventura stealth con qualche puzzle e degli elementi platform. Non mi convince moltissimo come avrete capito, ma staremo a vedere. Bene, questo era il listone di giochi in arrivo nel 2023. Segnalate i giochi che non trovate in lista nei commenti, mi raccomando, così come vi dicevo prima, tra video e commenti abbiamo il quadro completo del 2023 videoludico. Vi ringrazio ovviamente come al solito per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!